Ciao, sono Yusuf, uno studente al sesto anno in medicina. Io ho affrontato un semestre di Erasmus nella città di Grazia in ambito del progetto dell'Erasmus e mi ha permesso oltre di imparare una nuova lingua che in questo modo mi ha ampliato oltre che le conoscenze anche incontrare nuove persone e nuovi docenti e avere la possibilità di migliorare la mia esperienza sia in ambito di chirurgia pediatrica sia nell'ambito stesso della medicina e chirurgia e questa esperienza mi ha portato ad incontrare anche un docente in chirurgia pediatrica a Grazia italiano in cui insieme abbiamo iniziato un progetto di collaborazione tra l'Università di Firenze e l'Università di Grazia che sarà un inizio di una, si spera, una futura e duratura collaborazione tra le due università. Quindi il mio consiglio rimane solo andate in Erasmus, non perdete questa esperienza.